5, 3, 2, 1, sinistra 3 per destra 2, taglia 50, sinistra 2, per sinistra 2 gira molto per destra 3, taglia vai, 50 destri, per destra 4, subito destra 3, taglia, subito sinistra 2, per destra 3, per sinistra 3, per destra 2 gira 50, tornante sinistro, per destra 3, per sinistra 4, per destra 3, subito tornante destro sale, accenno destro, per sinistra 5, subito tornante sinistro, per accenno sinistro, per destra 3, per sinistra 3, per destra 2, per sinistra 5, 100, per destra 3, taglia, per destra 4, in sinistra 4, per destra 4, 50, in sinistra 2 diventa 4, 50, destra 4 al palo, per sinistra 4, per destra 4, per destra 4, per sinistra 4, connessi, sinistra 4, 50, per destra 4, 50, per sinistra 3, per sinistra 4, connessi, sinistra 5, sinistra 4, subito destra 2, per sinistra 2, per destra 3, lunga, per sinistra 3, lunga, per sinistra 3, per destra 2, sporca, per sinistra 2, chiude, subito destra 2, per sinistra 3, 50, sinistra 2 al palo, in destra 3, per sinistra 3, al rosso diventa 2, chiude, per destra 2, per sinistra 3, per sinistra 3, subito sinistra 3, subito destra 2, sporca, subito sinistra 2, al palo, per destra 2, sporca, in inversione sinistra, sale, per sinistra 2, per sinistra 3, per sinistra 3, per sinistra 3, in sinistra 2, chiude, sporca, subito sinistra 2, per sinistra 4, per destra 2, per sinistra 2, chiude, 50, per destra 3, per sinistra 3, per sinistra 2, chiude, sporca, chiude all'ultimo, per destra 3, per sinistra 3, per sinistra 3, per sinistra 3, per sinistra 4, subito destra 2, per sinistra 2, per sinistra 2, lunga diventa 3, per sinistra 2, per sinistra 2, con sinistra 3, per sinistra 3, per sinistra 2, al palo, sinistra 2, impera, guarda, In sinistra 3 In destra 4 e compressione In destra 3 In sinistra 2 In destra 3 In sinistra 3 In destra 2 e 50 In destra 3 In sinistra 3 e 50 In sinistra 2 Attenzione c'è il buco In destra 2 In sinistra 2 In sinistra 4 e 50 In destra 2 e 50 In destra 3 In destra 3 In sinistra 4 In subito sinistra 3 In destra 3 e 2 tempi In sinistra 3 In destra 3 In destra 3 e 2 tempi In sinistra 3 In destra 3 e stop Porca troia Cosa? Se è giusto abbiamo passato di nuovo